Sarà la BC Castelfiorentino ad organizzare le finali di Coppa Toscana di Serie C maschile in cui sarà impegnata anche l'Amen Scuola Baschetta Rezzo che affronterà sabato 5 gennaio alle 17 l'Enic Pino Dragons Firenze, attuale imbattuta capolista del campionato in Serie C Gold. Nell'altra semifinale i padroni di casa del solettificio Manetti Castelfiorentino sfideranno il Val di Sieve per raggiungere la finalissima che si giocherà il 6 gennaio alle 18.15. Per l'Amen Scuola Baschetta Rezzo la partecipazione a questa Final Four è già di per sé un risultato eccezionale. Gli Amaranto infatti sono l'unica squadra di Cisilver qualificata e hanno superato nel corso delle qualificazioni Synergy Valdarno, Colle Valdelza ed Invictus Meloglia Livorno. Nella storia della manifestazione già in un'altra occasione la Scuola Baschetta Rezzo aveva conquistato questo traguardo. Nella stagione 2012-2013 gli Amaranto, allora guidati in panchina da Stefano Baggiani e Franco Guccione, raggiunsero la finale da outsider, battendo in semifinale la favorita legnaia Firenze prima di arrendersi ai padroni di casa della pallacanestro Agliana. Molti dei protagonisti di allora saranno in campo a Castelfiorentino con il chiaro obiettivo di vendere cara la pelle contro avversari blasonati e con la voglia di misurarsi al livello massimo della pallacanestro toscana.